Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale, sono tornata e sono tornata con lei. La nuova palette di Natasha Denona, I Need a Nude Palette, l'ho trovata a Lisbona, inaspettatamente, totalmente inaspettatamente, tenevo d'occhio il sito di Sephora Portogallo per vedere se riuscissi a trovare la mini starlet che da Sephora in Italia non era ancora uscita quando sono partita e su Call Beauty era sold out, quindi speravo di trovarla in Portogallo, i giorni di uscita mi sembrano quelli, in realtà no, doveva uscire il 29, però ho detto vabbò vediamo che novità ci sono su Sephora Portogallo e tipo ogni mattina andavo a vedere appunto sul sito di Sephora e mentre facevo colazione il secondo giorno a Lisbona ho visto che c'era lei come novità sul sito, sono andata a controllare la disponibilità nei negozi e nei negozi c'era, quindi fatta colazione, finita colazione ho detto ai miei amici sentite io devo passare da Sephora, tanto era lì vicino, devo andare subito lì perché ho visto che già la mini starlet era andata sold out subito, questa qua ha avuto un bel po' di hype, quindi avevo paura facesse la stessa fine, di arrivare in Italia che fosse già sold out anche in Italia su Call Beauty e quindi sono andata subito da Sephora, arrivata lì nello stand di Natasha Denona non c'era, allora ho chiesto la commessa e la commessa mi ha detto non è ancora uscita, non ce l'abbiamo e io gli ho detto no no me la dà sul sito, mi mi dà che voi ce l'avete, allora ha chiesto un altro suo collega che è andata a vedere in magazzino e me l'ha tirata fuori, avevo ragione, fate così con Sephora quando anche in Italia sul sito vi dice che è disponibile nel negozio di vostra scelta, chiedete perché spesso non ce l'hanno esposta ma ce l'hanno in magazzino, mi è già capitato anche in Italia questa cosa, comunque questa è la palette, questo è il packaging in plastica, i nuovi di Natasha Denona che io non amo ma perché mi piacciono di più quelli che aveva prima in similpelle, però ricorda il packaging della Retro Glam, quella sul verde perché appunto questo doppio plexiglass sopra che dà l'effetto lucido, mentre dietro hai i soliti buchini per scambiare le cialde volendo, vi ho girato dei close up dei video in cui vi faccio vedere bene la palette, il packaging, la palette non sbocciata perché adesso è già stata sbocciata in cui vi faccio anche dei confronti, infatti questo video non so quanto durerà, ero indecisa su quanti look fare, alla fine penso che ne farò quattro, mi vedrete in due giorni consecutivi credo perché oggi a girarli tutti non riesco, però appunto farò quattro look, poi faremo delle comparazioni e visto che non so quanto durerà questo video vi metterò i soliti intervalli di tempo nel box informazioni e anche sulla barra di scorrimento del video questa è la palette nel formato midi e made in Italy con un PAO di 24 mesi, contiene 16,7 grammi, il packaging è appunto in plastica con il fronte in plexiglass, queste forme geometriche ricordano l'arredamento di design e sono state disegnate personalmente da Natasha Denona, è una palette dai colori neutro freddi, rosati e nude che vanno dal dusty rose all' icy pink, contiene 15 nuove shade e una formula nuova, la wet effect sparkling and glossy per un tocco etereo, dovrebbero essere ombretti dal finish seamless, sfumabili e vibranti, contiene due metallici, sette creamy matte che sono quelli in polvere, tre sparkling fold metallic e tre wet effect shade, la base l'ho già fatta, trovate tutto quello che indosso nel box informazioni, come primer ho già applicato questo qua di NARS, la smudge proof eyeshadow base, quello trasparente, che con Natasha Denona finora è quello con cui mi trovo meglio in assoluto, soprattutto per quanto riguarda i suoi metallici. Iniziamo con i primi due look, sono abbastanza indecisa su cosa fare, io in questa palette ho già visto dei video, però li ho visti non facendoci molta attenzione, cioè li mettevo mentre mi stavo preparando in vacanza, quindi non facevo caso ai colori utilizzati, a che look uscivano fuori, sentivo solo che gli shimmer erano stupendi, quindi adesso non ho assolutamente idea di cosa fare, volevo usare sulla palpebra principalmente i colori nella nuova formula, che sono questo qua che è Delilah, Mia e Sheen, per vederne un po' la durata, così quando farò gli altri due look saprò dirvi qualcosa. Come colore di transizione volevo usare uno di questi due, questo è mesh e questo è stone, dal pan sembrano praticamente identici, questo è mesh e questo qua nell'angolo è stone, sembra molto molto simili, stone è descritto come un top light medium caldo, mesh è un light dusty rose, cioè un rosato che dà un po' più sul caldo, un polveroso, vi dico rosato che dà un po' più sul caldo perché in inglese la differenza tra rose e pink è che è rose di solito più caldo, mentre il pink è più rosa freddo, però quello che vedo è anche che mesh è più chiaro. Metto quindi mesh nella piega con un ref numero 15 e lo sfumo. Come al solito con i matt di Natasha Denona fate attenzione perché spolverano in cialda, quindi scaricare bene il pennello. Ho iniziato con poco e adesso lo costruisco un po' di più. Contate che io per i miei standard al momento sono abbronzata, quindi forse si vede un po' meno rispetto al solito. Si vede poco su di me al momento, questa è la terza volta che lo costruisco, sempre prendendone poco però. Se vedete questa macchia qua, non so se si vede in camera, io dallo specchio la vedo e dalle vacanze che non capisco cosa sia. Il correttore non funziona, almeno quello che ho io nei colori che ho io, niente. Sembra quasi un infossamento, comunque ve lo dico perché non è fallout, assolutamente non ha fatto fallout questo colore. Poi per intensificare vado a mettere Vague che è descritto come un dusty rose medium caldo ed è questo qua. Adesso non so se perché io sono leggermente abbronzata, ma questo qua che invece è descritto come un light medium rose risulta freddo su di me, ma forse perché sono abbronzata. Mentre questo qua risulta più caldo. Non caldo caldo, ma diciamo più neutro. Questo sembra quasi violaceo. E lo vado ad applicare appunto nella piega con un refro numero uno, non portandomi troppo su con il colore, per dare appunto intensità all'esterno e nella piega. Anche lui spolvera. È decisamente più intenso come colore rispetto a Mesh. Se vedete che qua non si è applicato è un problema che ho io con tutti gli ombretti, cioè proprio questa parte di palpebra su cui non mi si applicano bene gli ombretti, ci devo poi andare con un pennello piatto, cosa che faccio subito, a prestarlo ed applicarlo così, perché se lo applico con un pennello a sfumatura qua l'ombretto non si attacca, ma vi dico mi capita con tutti tutti gli ombretti. Vado a risfumare con il numero 15 e adesso sulla palpebra volevo provare a mettere direttamente questo che nella nuova formula wet effect, che è un colore descritto come icy pink. Per vedere appunto come si comporta, se ha base colore, se ne ha poca, se dura. Allora, messo con il dito che sinceramente con questi ombretti che dovrebbero essere quasi dei topper, a quanto capito, forse è meglio, risulta più pieno, più con una base colore. Se lo si vuole tenere più leggero con un pennello. Però devo dire che risulta abbastanza pigmentato, me lo aspettavo più topper, ecco, sull'occhio. Per quanto mi riguarda ha una pigmentazione sufficiente, soprattutto tenendo conto che questo dovrebbe essere un look nude fatto con questa palette. Io voglio appunto testarne la durata e quindi metto solo lui. Rintensifico l'angolo esterno sempre con Vague, ma lo applico questa volta con un Refre numero 2, solo tamponando. Con lo stesso pennello porto Vague nell'arima inferiore, sfumandolo anche un pochino, e lo applico solo con la punta del pennello. Un po' mi congiungo all'angolo esterno, ma in modo molto naturale, senza righe precise o stacchinetti. Allora, Mia non ha fatto per niente niente fallout, almeno con queste luci io non ne vedo. Ha un finish molto morbido al tatto, non dico che sembra quasi bagnato, perché no? Però non è secco come alcuni topper. Ad esempio, quelli di Pasmergrat, i Blacks Astral, sono molto molto più bagnati rispetto a questo, ma sono anche più secchi. E questa cosa un po' mi preoccupa, perché su di me le texture più cremose, come appunto i metallici di Natasha Denona, tendono a durare poco. Quindi vediamo. Vado a mettere poi sempre Mia nell'angolo interno con un refro numero 3 e lo uso appunto come punto luce. Look veramente semplice, molto molto nude. Non ho intensificato troppo, volendo si può usare Silhouette, che è il matte più scuro, per andare ad intensificare l'angolo esterno, ma volevo vedere appunto se questi colori di questa palette, anche su una pelle come la mia, chiara, il viso sia abbronzato, ma non così tanto, risultassero comunque nude e non troppo pigmentati per me, da essere definiti nude naturalmente. Provo a portarlo anche nella prima parte della rima inferiore, sempre con il refro numero 3. E devo dire che ci si riesce abbastanza bene, anche qua senza avere fallout, cosa che invece mi capita con le shade speciali di Pat. Questo rimane molto più adeso all'occhio e non parte in giro. Metto la matita nera di Charlotte Tilbury Bedroom Black nella rima superiore interna. Volevo mettere poi sotto Pillow Talk, però mi sa che l'ho messo nel contenitore delle matite in bagno e quindi qua non ce l'ho. Quindi vado ad utilizzare questa matita qua, di Marc Jacobs, che dovrebbe essere Jetsberry. Se non ricordo male, mi spiace, purtroppo non si trova più, però potreste usare comunque una matita rosata qualunque. Tra l'altro, avete sentito che torna Marc Jacobs? Non si sa quando, forse da qualche anno addirittura, ma torna. Speriamo che torni con i bronzer, con quelli, perché io il bronzer di Marc Jacobs ce l'ho, mi piace un sacco, e nel mio colore ce l'ho in tagliamini, quindi non lo sto usando praticamente. Come mascara vado a mettere solo una passata di questo di Uda Beauty, il One Cut Wow. Ne metto appunto solo una passata perché è l'unica maniera per fare in modo che non sgrani durante il giorno, o comunque se sgrana, sgrana pochissimo, perché anche con una sola passata non è detto che non succeda. E questo è il primo look, mi piace molto, molto semplice, veloce da fare, tre colori. Forse volendo sempre potevano usare anche solo due, evitando mesh, ma usando solo Vag sfumandolo bene. Mi sono dimenticata di farvi vedere mia swatchato, è questo qua, ed è un icy pink, almeno così descritto, cioè un rosa freddo molto chiaro, nella formula appunto wet effect. Come potete vedere, swatchato sulla mano, sembra avere molta meno base colore rispetto a come risulta applicato sull'occhio, almeno con il dito. Applicato con il pennello sicuramente risulta meno forte come colore, come base colore. Per questo secondo look volevo iniziare invece con Silhouette, che è il colore più scuro, un po' come fa Natasha Denona. Sicuro il risultato non sarà lo stesso, anche perché lei di solito inizia mettendo prima una matita e poi applicando la polvere sopra, quindi sarà sicuramente meno intenso e meno preciso e meno ben fatto. Comunque lo sto applicando con un refro numero 28, che è un pennello d'applicazione e mi tengo abbastanza vicina alla rima cigliare. Con lo stesso pennello lo porto nella rima inferiore, fino a congiungermi con l'angolo esterno. Questo marrone è descritto come un color chicchi di caffè. Io ci vedo anche una base leggermente violacea. Purtroppo ho smesso di registrare, non me ne sono accorta, sono andata avanti un altro po'. Quello che ho fatto è stato poi applicare Travertine, che è un metallico descritto come un'ambra soft. È infatti un pelino caldo, almeno ha una base un pelino calda, però gli shimmer sono più freddi. È comunque un metallico, non ha particelle particolarmente riflettenti e per questo si riesce a usare bene come colori di transizione. Io l'ho applicato con questo pennello di Refre, che è il numero uno, nella piega, senza andare troppo verso il sopracciglio. E poi invece ho sfumato con Fair, che è il matte più chiaro, ed è descritto come un rose light fumoso. Appunto un rose, non un pink, quindi più caldo, ma con una punta di polveroso. Adesso invece vado ad applicare Whisper su tutta la palpebra, che è l'altro metallico della palette più chiaro, eccolo qua, Whisper, che è descritto come un light nude pink, quindi più freddo rispetto al soft amber di Travertine. Lo vado ad applicare non proprio su tutta la palpebra, diciamo che mi tengo più sulla parte più interna. E nella parte più esterna vado a mettere Travertine, più vicino a Silhouette, che è lo stesso colore che ho usato per sfumare nella piega. Questi metallici di Natasha Denona sono abbastanza sottili e aderenti da poterli usare come colori di transizione. E lo congiungo appunto a Whisper e Silhouette. Intensifico un altro po' Silhouette e risfumo il tutto con il refri numero 15 con cui ho prima sfumato Fair per togliere eventuali stacchi. Allora, questo colore Fair che è il più chiaro della palette. Su di me si vede, però è al limite. Contate sempre che io sono leggermente abbronzata, non dà sul rosa, rimane quasi un beige, però io riesco a vederlo. Ho utilizzato i metallici sulla palpebra per utilizzare questa nuova formula Wet Effect come topper. Utilizzo Delilah che è descritto come un marrone argentato appunto in questa nuova formula. Lo vado ad applicare solamente però al centro della palpebra. Anche lui applicato così sembra abbastanza pigmentato, non eccessivamente, ma ha una discreta base colore. Lo applico solamente al centro perché voglio vedere quanto durano i metallici presenti in questa palette perché io con questa formula spesso dei problemi di durata. Quindi voglio lasciare una parte libera senza il topper e vedere appunto come funzionano queste shade come topper allo stesso tempo. Come punto luce vado ad utilizzare Shein che è sempre in questa nuova formula Wet Effect in un colore champagne caldo e lo uso appunto come punto luce con il Refre numero 3. È un po' scuro per me come punto luce. Comunque è abbastanza pigmentato anche lui devo dire. Si preleva anche bene con il pennello. È un po' scuro per me al momento ed è sicuramente più scuro di Whisper. Su di me più che uno champagne dorato sembra un pescato al momento. Sempre con il Refre numero 3 prendo Travertin che è il metallico più scuro e lo vado a mettere nella rima inferiore. Ah non so se ve l'ho detto prima, comunque questa è la prima volta che uso la palette. Mi sembra un'informazione abbastanza importante. Sono stata brava in vacanza, non l'ho utilizzata perché avevo paura che mi cadesse e si rompesse visto che mancavano i punti d'appoggio e quindi ho preferito evitare di fare danni. Visto che Sheen per me è troppo pescato, troppo scuro nell'angolo interno vado a mettere di nuovo Mia come punto luce sempre con il Refre numero 3. Ecco sì, decisamente meglio. Forse per me in questa palette Mia e Whisper sono i colori da usare nell'angolo interno. Questi sono i colori che ho utilizzato per questo look naturalmente di Sheen. Questi due sono i metallici Travertin e questo che è Whisper. Poi c'è Delilah che è nella formula Wet Effect, quella nuova, e Sheen anche lui nella formula Wet Effect. Qua Sheen sembra molto più chiaro rispetto a cosa ho trovato io nell'angolo interno e questo invece è appunto Delilah che è descritto come un marrone argentato mentre Sheen è uno champagne dorato. Eccoli qua. Per quest'occhio metto nella rima superiore interna la matita marrone di Diego Dalla Palma numero 32 e la porto anche nella prima metà della rima inferiore interna e sfumo poi un attimo la rima con il refro numero 28 con cui ho applicato silhouette del marrone più scuro. E anche qua applico il one coat mascara di Huda Beauty. Molto semplice anche questo look. Più intenso sì, ho usato anche più colori, però comunque i colori da sfumatura rimangono abbastanza tenui da essere considerati da me nude. Mi piace, mi piace molto. Volendo si può intensificare di più, ci si può allargare un po' di più per fare qualcosa di un po' più wow e un po' più ad effetto, ma a me piace piace molto. Adesso rimane da vedere la durata. Cioè il wet effect non mi sembra almeno per adesso abbiano dato fallout. Sono sottili, sono abbastanza morbidi, non troppo secchi e quindi aderiscono bene alla palpebra. Questi quindi sono i due look di oggi e noi ci vediamo un altro giorno con altri due look. Secondo giorno di prova, altri due look. I prodotti per la base sono gli stessi dell'altro giorno, compreso il primer occhi di Nars. L'unica cosa se vedete un po' diversa è perché ho utilizzato un'altra protezione solare. Oggi ho utilizzato quella di Instry, l'altro giorno avevo usato quella di purito, che forse per me fa ancora un po' troppo caldo, rimane un po' troppo idratante e infatti poi a fine video era abbastanza lucida. Comunque, finita questa premessa, andiamo con il terzo look. Vorrei provare una tecnica utilizzata da Natasha Denona per cambiare anche un po' tipologie di look. Non so cosa uscirà fuori. Ho provato a farlo ieri, non è venuto malissimo, però ecco non è proprio il mio, ecco non sono proprio nella mia comfort zone. Mi sento un po' impacciata, quindi non so cosa verrà fuori. Inizio col prendere Silhouette, che è il colore più scuro, e lo applico con il refro numero 28 e mi mantengo attaccata alle ciglia. Il più possibile. Ve l'ho detto, il più possibile rispetto alle mie capacità. Che in questi trucchi un po' direi un po' più grafici non sono particolarmente eccelse. Quello che fa invece Natasha Denona spesso è andare a dare intensità prima con una matita scura. Ecco, quella è una tecnica che io proprio non uso. Non mi sento a mio agio con le matite, perché ho paura di fare danni e lì i danni, soprattutto se sono matite che si fissano, ma sono difficili da correggere. Lo stesso colore lo vado a mettere anche nella rima inferiore utilizzando la punta del pennello. Questo colore lo applico cercando di liftare l'occhio verso l'alto. Ed è questa la cosa per me difficile, perché avendo l'occhio incappucciato, io qua ho pochissimo spazio prima dell'osso. Adesso vado a prendere Tender e lo applico sempre con il refro numero 28, proprio dove finisce Silhouette. Quasi a sfumare Silhouette. Questo colore è descritto come un top medio. Lo vado a sfumare proprio con la punta del pennello. E faccio la stessa cosa nella rima inferiore. E veniamo alla parte complicata. Prendo di nuovo tender. E lo applico con un refro numero 26, in modo abbastanza preciso, nella parte interna dell'occhio, tenendomi però nella piega. Dovrebbe infatti essere un halo smoky un po' più delicato. Almeno a Natasha viene, a me non lo so. Ieri ho usato il 28 per fare questa stessa cosa e non mi ci sono trovata bene. Quindi oggi ho provato col 26, ma devo dire che forse non è neanche questo pennello adatto. Perché sono scesa un po' troppo qua. In realtà mi sarei dovuta fermare proprio nella piega. Ha lo smoky modificato perché non vado a mettere il colore su tutta la parte anche della palpebra interna dell'occhio. Poi vado a prendere Fair, il colore matto più chiaro. E con un refro numero 1 cerco di pulire un po' qua all'interno. Pulire e sfumare allo stesso tempo tender. Poi vado a sfumare sempre con Fair e il numero 1 di refro anche i bordi nella parte esterna. Rintensifico tender qua nella parte interna dell'occhio. Poi prendo il metallico più chiaro, Whisper, e lo applico con un refro numero 2 all'interno dell'occhio sulla palpebra e poi nella parte più esterna della palpebra all'incontro con tender. Con un refro numero 3 vado poi ad applicare Whisper, lo stesso colore di prima, un light pink nude, nella parte più interna della rima inferiore. Poi vado a prendere Muse e con il dito lo applico al centro, all'incontro con Whisper. Lo porto anche un po' più su. Questo qua è uno sparkling foil metallic color champagne. Uh, forse un po' troppo su, un po' troppo brillante. Decisamente. Adesso sistemiamo. Comunque l'ho prelevato solo una volta e questo è il risultato. Molto molto bello e brillante. Fallout sì, qualcosina c'è ma da questa formula me l'aspetto. E questo mi uso, questo champagne nella formula sparkling foil metallic ed è il più luminoso di tutta la paletta, anche rispetto agli altri colori nella stessa formula, naturalmente perché è più chiaro degli altri. Bellissimo. Adesso cerco di sistemare questa cosa qua con il matte più chiaro, il colore fair, con un ref numero 1. Ieri questa cosa qua di metterla un po' più in su l'ho fatta lo stesso ma si vede che ne avevo prelevato meno e non era così luminoso il mio sopracciglio. Va decisamente meglio ma rimane comunque luminoso. Come punto luce utilizzo di nuovo Mia, questo ombretto nella nuova formula, un po' più rosato, che per me rimane quello più utilizzabile come colore da punto luce perché è il più chiaro. Provo a mettergli sopra Shein che è sempre nella stessa formula, quella nuova, ma è un po' più dorato per togliergli questo tocco rosato che ha. Fuori camera per far più veloce ho applicato la matita nera di Charlotte Tilbury Bedroom Black nella rima superiore all'interno, invece nella rima inferiore il Cupid's Arrow numero 2, il marrone più neutro, solo però nella parte più esterna. E come mascara sempre quello di Uda Beauty, il One Cut Wow. Per quest'altro occhio voglio adesso utilizzare Whit, che è questo colore qua, ed è il più caldo della palette. Anche questo sembra caldo, ma in realtà non è così. Questo infatti è quello più scuro ed è vague, ed è un marrone rosato quasi terracotta, ma non così caldo. Mentre questo è Whit, che è un rosa pescato, molto diverso sbocciato rispetto a quello che sembra in Childe. In Childe sembra più aranciato. Eccoli qua. Anche se è un rosa pesca, è abbastanza unmuted questo colore. Scusate il termine in inglese, ma faccio veramente difficoltà a trovare un sinonimo in italiano. Vado ad applicare come colore di transizione appunto Whit, con un ref numero 15. Questo colore viene descritto sul sito come un roso caldo chiaro. Ne vado a riapplicare un altro po' per dargli un po' più di intensità. Vedete che comunque non è un rosa fluo, ad esempio come quello che è presente nell'Eutopian Dream di Pat McGrath, che io non riesco ad utilizzare. Adesso prendo Silhouette, il colore più scuro. E questa volta lo applico con un ref numero 21, perché voglio vedere com'è sfumandolo, se fa macchia o cosa. Perché ha una leggera punta di violaceo. A me non sembra abbia fatto macchia, ricordatevi però solo che qua a me, proprio nella piega, non mi si applica il colore di solito. Almeno in quest'occhio. Sono andata un po' più ad insistere appunto nella piega dove non mi si applica il colore con questo pennello e sono riuscita ad applicarlo. Ah, e ho scoperto anche che cos'è questa macchia qua. Ed è semplicemente il mio melasma, che si vede che è venuto un po' più fuori con l'estate. E forse con il correttore tira fuori un po' di grigio e sembra che ci sia appunto questa fossa. Riprendo il ref numero 15 con WIT e sfumo i bordi di Silhouette. Poi metto Silhouette nella rima inferiore con il numero 28 utilizzando la punta e lo ricongiungo alla parte superiore. Sfumo la rima inferiore con il ref numero 15, quello con cui ho applicato WIT. Poi utilizzo il colore più chiaro, FAIR, con un ref numero 27 per pulire bene i bordi, togliere qualsiasi linea netta che si sia venuta a creare. Adesso sono un po' indecisa su che colore shimmer utilizzare sulla palpebra. Vorrei utilizzare o Ella oppure questo qua più scuro, filigree. Sono entrambi nella formula sparkling foiled. E questi sono i colori. Questo qua è filigree ed è descritto come un marrone neutro medio. Mentre questo è Ella e viene descritto come un colore cerbiato caldo. Scusate ma la traduzione è questa. Vado ad utilizzare filigree, quello più scuro. E lo applico con il dito al centro della palpebra e mi collego anche a silhouette. Adesso utilizzo questo dorato champagne sheen. E lo metto sempre con il dito nella parte più interna della palpebra. Questo qua appunto nella nuova formula dall'effetto bagnato. E lo vado un po' a sovrapporre anche a filigree. Più che champagne dorato sulla mia palpebra lo vedo pescato. Riprendo il numero 15 con cui ho messo wit e sfumo un po' i bordi, soprattutto di filigree e silhouette. Vado poi ad applicare sheen nella parte più interna della rima inferiore con un raffer numero 3. Come punto luce per cambiare questa volta vado con Muse, sperando di non fare troppo casino. Vista la formula e lo metto appunto nell'angolo interno con un raffer numero 3. Ho completato anche questo look fuoricamera, matita nera nella rima superiore interna, mascara di Huda Beauty, mentre nella rima inferiore ho messo Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Devo dire che anche se ho usato il colore più caldo, sull'occhio non mi sembra per niente caldo. Questo almeno rimane sul neutro, soprattutto abbinato a silhouette. Mi piace molto molto molto, sono contenta che non sia così caldo. Ma veniamo adesso alle comparazioni. Iniziamo dalle palettes di Natasha Denona. La prima che sicuramente è venuta in mente a tutti è stata la Glam Palette, eccola qua, che non è una delle mie preferite assolutamente, più che altro per la formula. Queste sono le due a confronto. Di queste palettes vi ho fatto anche gli swatch a parte, dove ve le comparo entrambe. Come si può vedere dagli swatch, la Glam Palette ha un sottotono più marrone-grigio, quindi è più fredda, mentre la Nude Nude è più rosata. È un nude più rosato. Non direi neanche tanto un marrone rosato, perché soprattutto sui matt tendono più al top che non al marrone. Il marrone è più presente in alcuni shimmer rispetto ai matt. La differenza tra queste due palette è quindi principalmente nel sottotono, ma non solo, anche nei finish. La Glam Palette non possiede alcuno sparkling foil o wet effect, quello che sia. Possiede dei metallici, che sono la stragrande maggioranza di questa palette. Ha solamente 5 matt, mentre nella I Need Nude ne abbiamo 7 di matt. Sicuramente si potrebbe ottenere un look molto simile. Con la Glam rispetto a quelli della I Need Nude, ma mai così bagnati o brillanti. Un'altra palette di Natasha Denona è la My Dream Palette, questa qua, che in realtà è molto molto diversa rispetto alla I Need Nude. Questa è molto più intensa, anche più varia, dei pop di colore più violaceo, più ramato. C'è poi questo trio chrome, che dà sul viola verde al nero, molto più intenso. Sicuramente più varia. Infatti gli swatch che vi ho fatto come confronto, li ho fatti prendendo solo alcuni dei colori presenti qua all'interno, che mi sembrano più simili, che sono Nurture, poi Unity e Carpe Diem. Questi due qua più caldi, questi due matt qua più caldi, sono più pescati, più aranciati e più intensi rispetto a quelli presenti nella I Need Nude. E poi ho messo a paragone anche i shimmer, che sono Trill, Babies e forse anche mi pare Spontaneous, questo più chiaro qua. Questi due, questo un po' più rosato, questo più dorato, questo qua l'avevo messo a confronto rispetto alla I Need Nude mi pare con Whisper, però rimane più caldo quello della My Dream. Altra palette di cui vi ho fatto gli swatch a confronto con quelli della palette I Need Nude di Natasha Denona è la Divine Rose 1 di Pat McGrath, semplicemente perché me ne ricordava il vibe. In realtà gli swatch, come potete vedere, sono abbastanza diversi, soprattutto questa qua ha dei colori un pochino più intensi, tipo questo rosato qua ha questo duo chrome, anzi questi due duo chrome, questo assomiglia un po' a Mia nel colore, anche lui è un duo chrome però, questo colore qua, che è il mio preferito, credo, di tutta la gamma di Pat, mi pare si chiami Astral Solstice, ma non me lo ricordo, me lo ricordo sempre, è l'unico nome che mi ricordo di Pat, ma adesso non mi viene in mente, comunque quello che dà l'effetto bagnato è molto più intenso rispetto agli sparkling foil presenti in Natasha Denona. Questa palette di Pat appunto non è molto simile a quella di Natasha Denona, ma me ne ricorda il vibe, ecco. Questa qua forse è un po' più muted, soprattutto nei matt, anche se questo qua, questo malva qua, sembra molto uno di questi tre, mi pare forse stone o mesh, però ricordate che questa di Pat ha i matt, che si possono intensificare a piacere mettendone di più o usando un pennello più fitto. Con questa invece è più difficile questa cosa qua, ma proprio per una questione di formula dei matt di Natasha Denona rispetto a quelli di Pat. Di queste tre palette che vi ho fatto vedere adesso vi ho appunto fatto gli swatch a confronto con quelli dell'I Need Nude Palette, invece delle palette che vi faccio vedere adesso non ho fatto gli swatch perché, come potete vedere, sono molto molto diverse. Questa è la Retro Palette di Natasha Denona, una delle mie preferite in assoluto. Questa dà più sul malva, borgogna, ha qualcosa di un po' più terracotta, un po' più caldo, ma non eccessivamente. Potrebbe avere dei colori, soprattutto nei matt, che potrebbero sembrare simili. E mi riferisco a questo matt qua, che è Nude Mauve, Gogo e Vivienne. Però questi sono comunque più intensi, questo dà più sul tortora rispetto al top presente nel Liney The Nude. Si potrebbero forse anche comparare questi due finish qua, che sono Psychedelic e Glitz, che sono quelli più brillantinati di questa palette, che a me non sono mai piaciuti, perché sembravano un po' il volere, ma non posso, rispetto ai Blix Astral di Pat McGrath. Questo è Psychedelic. Sì, sono brillanti, ma non così tanto, soprattutto sull'occhio non così tanto, e fanno anche abbastanza fallout. Comunque non hanno niente a che fare con la formula uscita adesso. Quella è più cremosa, questa è un po' più secchina, aderiscono meno alla palpebra. Qua sopra vi ho poi swatchato Mia, della I Need The Nude palette. Ecco, qua sembra più topper e lo vedete che è più brillante, almeno. A me sembra più brillante. Altra palette che potrebbe avere qualcosa di simile alla I Need The Nude è questa qua, la Lila palette. E mi riferisco soprattutto ai matte. Quelli in alto sono Nude Mauve al centro e Nude Vino all'angolo, e poi nell'angolo in basso c'è Perse, che sembra abbastanza chiaro, ma in realtà non lo è poi sull'occhio. Nude Mauve è lo stesso che si ritrova anche nella Retro palette. Lei è decisamente più intensa e più viola, e anche più rossa, direi. Altra palette di Natasha Denona, la Yacca palette, decisamente diversa. Su questo non c'è dubbio, volevo solo swatchare con voi questo qua, che è Elysian, che è sempre nella formula sparkling foiled. Però questo qua, già a vederlo dal dito, è più grigio, con un riflesso quasi verde, sembra. Sì, sì, decisamente più grigio. L'avrei messo a paragone con filigri e ella, ma no, li ho swatchati lo stesso. Elysian, della Yacca, filigri e ella. Totalmente diversi, meno male. Altra palette di Natasha Denona, la Glam Face palette, nella colorazione light, nei matt e più marroncina, ma io ve lo metto a paragone, soprattutto gli shimmer, che sono i predecessori della formula sparkling foiled. Questa qua, a confronto, è un po' più sottile, quasi meno pigmentata, gli shimmer sono decisamente più fini, sembra un po' più polverosa quando si preleva con il dito. Fanno tutte e due fallout, sia l'una che l'altra, non dico di più di meno perché lo fanno tutte e due. Ho abbassato un po' le luci perché non so se riuscite bene a vedere. Questo qua è Ella, della I Need a Nuda palette. Poi c'è questo in mezzo più chiaro, che è appunto il più chiaro della Glam Face palette. E questo qua è il più scuro della Glam Face palette. Vedete come questi due hanno meno base e colore rispetto agli sparkling foiled. Sempre Glam Face palette, ma nella versione dark voglio mettere a paragone questi due shimmer, che sono nella stessa formula che è presente nella versione light. E questi due sono i colori della Glam Face palette in dark. Questo qua io lo adoro, mi piace tantissimo, ma vedendolo sbocciato pensavo fosse molto simile a Filigree o Ella, in realtà ha una base più rossiccia. Quest'ultimo invece è il più scuro della Dark, ma non mi piace tantissimo anche perché non è così brillante come l'altro. Ultima palette viso-occhi di Natasha Denona, la Love Face palette, dove appare per la prima volta la formula sparkling foiled metallic. Eccola qua. Questa è decisamente una palette più rosa, più rosa intenso anche. E questo è appunto Affinity della Love Face palette. Vedete com'è più brillante rispetto a quelli delle Glam Face, è decisamente più brillante, e questo ha anche una base più presente, ed è una base rosata però questa volta. Per quanto riguarda le mini di Natasha Denona, la mini Starlet, che secondo me è la più simile di tutte, non ce l'ho ancora, quindi non vi posso fare un confronto. Vi faccio un confronto con la mini Nude, però questa qua è uscita ormai tanti anni fa. Non c'entrano assolutamente niente. In comune hanno solo una parte del nome. Questa è decisamente più calda. Calda, ramata, bronzata, non c'entra niente niente. Adesso uscendo dall'universo Natasha Denona, una palette che ho sentito spesso mettere a confronto, è la Rose Quartz di Huda Beauty, questa qua. Allora, secondo me c'entrano ben poco. La Enidia Nude è più nude. Questa qua è più viola, più rosa, proprio rosa rosa, non rosa nude. Forse sì, possono avere qualche colorino di matte da mettere a confronto. Questo, questo, questo è già troppo sul grigio, forse Gratitude. Gli shimmer non mi sembrano confrontabili, forse questo qua è l'unico. Questo è Energized della Rose Quartz, non so quanto possiate vedere. Comunque è una base decisamente più rosata rispetto a cosa si trovi nella Enidia Nude Palette. Poi questa palettina qua di Visert, questa è la Kashmiri. Anche questa, come la Divine Rose di Pat McGrath, della Enidia Nude Palette, me ne ricorda più che altro il vibe. Anche se è un pelino più intensa, questa poi è suddivisa bene in marroni e toni malva. Gli shimmer sono decisamente, decisamente più tranquilli. Non c'è proprio paragone come shimmer. Questa risulta anche molto più tenue rispetto a questa qua. Però il vibe, ecco, un po' nude, me lo ricorda parecchio. Come al solito cambio batteria. Finito con le palettes più grandi, sia di Natasha Denona che non, volevo farvi vedere dei quad per loro natura più nude, che quindi ho sentito spesso paragonare a questa palette di Natasha Denona. Iniziamo con questa cinque colori, in realtà, di Dior, che è Soft Kashmir, che io a vederla la vedo molto più intensa rispetto all'I Need Nude di Natasha Denona. Però forse almeno un colore potrebbe essere messo a paragone, mi riferisco allo shimmer. Questo Tortora qua, il più shimmerino di tutti. Quello più bianco per me è un top coat, che io quasi non vedo, quindi non ve lo faccio vedere a confronto. L'ho applicato qua di fianco. Questo qua in mezzo è il colore di Dior. Poi questo è dell'Hila, ed è nella nuova formula di Natasha Denona. Questo è più marroncino, mentre quello di Dior è più malva. Però sembrano più simili come formula rispetto a quanto possa essere simile alla Sparkling Foil Metallic. Qua c'è Filigree, Ella e Muse dell'I Need Nude. Spero riusciate a vedere bene le comparazioni. Altro quad famoso per essere un quad nude è questo qua di Tom Ford, Nude Deep. Lui come finish non c'entra assolutamente niente con la I Need Nude Palette di Natasha Denona. Anzi, con lui si riescono ad avere dei look ancora più nude, proprio anche per il finish, perché non è niente di così brillante. Sì, sono luminosi, però forse tendono più al satinato. Non è esattamente il classico satinato, è più luminoso di un satinato, ma lo è molto meno rispetto a questi shimmer qua. Comunque in alcuni colori potrebbe ricordare questa palette. E questi sono gli swatches di Tom Ford. Come potete vedere sono molto più tranquilli rispetto agli shimmer di Natasha Denona. Cosa ricorda il quad di Tom Ford rispetto alla palette di Natasha Denona? Secondo me è il sottotono top. Ultimo quad nude a confronto è questa mini clouch di Stel Loran. Questo è il colore Storadol. Scusate se ve la faccio vedere così, ma mi ha appena volato, nel senso si è staccato il pan delle quattro cialde ed è volato per terra, così senza motivo. Io non ho mai fatto cadere né niente. So che è successo anche a Mathilde Baldi, quindi non sei la sola. Mi ha preso un colpo perché proprio ho volato giù. Ho detto si è spaccato, invece no, meno male. Comunque volevo confrontare soprattutto questo shimmer qua. Pensavo fosse simile a Delilah, della I Need a Newt di Natasha Denona. Delilah è questo qua, pensavo fosse molto simile, invece no. La base colore è totalmente differente. adesso io non ho trovato di meglio che fargli swatch così perché non ho più spazio e sono piena di brillantini dovunque. Questo qua è quello di Stel Loran, quello in mezzo è Delilah di Natasha Denona. Sono completamente completamente diversi e non c'entra neanche tanto Muse che questo qua, che ha una base molto più presente, più calda. Questo qua sembra avere una base più champagne dorata. Con le comprazioni ho finito. Allora, questa palette io l'ho usata per due giorni, tre giorni di fila, perché l'ho usata anche ieri dove non ho registrato. Quindi so darvi qualche informazione soprattutto sulla durata. Sia i metallici che la nuova formula su di me non hanno avuto problemi di durata, almeno con questo primer sono durati lì tutto il giorno. Sia la nuova formula Wet Effect che i metallici classici, che di solito sono quelli un po' così per me. Metallici non così brillanti, ma almeno durano. Possono essere usati come tutti i metallici di Natasha Denona, anche come colori di transizione, perché sono molto sottili. Non perdono brillantini quando li si sfuma, quindi sono ottimi in questo senso. Questa palette io appena l'ho vista. Ho detto, deve essere mia. A me questo schema colore piace tantissimo. In più, il fatto che avesse di nuovo gli sparkling foil all'interno, cioè proprio, non vedevo l'ora. Poi sono nei miei colori. Quelli che uso di più, sì, sono noiosi, sì, sono nude, ma alla fine sono quelli che uso di più. Avrei gradito un marroncino più marroncino da transizione. C'è questo qua che è Vogue, che potrebbe sembrare un po' più mattone, ma in realtà un marroncino più rosato che alla fine può anche andar bene come marroncino di transizione. Però avrei voluto qualcosa nel mezzo tra Vogue e Silhouette per dare un po' di diversità al look, perché Stone, Tender e Mesh rimangono tutti sul top e quindi sono un po' ripetitivi, soprattutto Mesh e Stone sono i più simili tra loro. Per il resto, bellissima. Cioè, cosa devo dire? L'adoro. Sono contenta che questa nuova formula duri. Mi piace? Sì. La preferisco alla sparkling foil? No. Avrei preferito tutti gli shimmer nella sparkling foil, ma questo è... Questi nuovi wet effect usati come topper danno sì l'effetto bagnato, ma non vi aspettate il livello dei Blix Astral di Pat. No. È tutta un'altra cosa. Sono più tranquilli, più calmi, ecco. Mettiamola così. Per il resto, wow, mi piace tantissimo. Sia la gamma clore che il finish, la durata. Veramente, veramente bella. Non so se diventerà la mia prima palette di Natasha Denona in classifica. A proposito di classifica, prima che uscisse lei, io avevo registrato un video di ranking di Natasha Denona sulle palette. Poi, non so, non mi era piaciuto come era venuto e ho cancellato tutto. Tempo di cancellarlo, visto che stava uscendo lei. Non riesco mai a girare questo video, perché, se posso dire una cosa, sulle uscite di Natasha Denona stanno diventando, secondo me, un pochino troppo ravvicinate. Mi ricordano quelle di qualche anno fa di Anastasia Beverly Hills. Cioè, neanche il tempo di godersi la IACA che è uscita subito lei. Cioè, quanto sarà passato? Neanche un mese, un mese, forse qualcosa di più, ma proprio poco. Poi è uscita la mini starlet e dopo una settimana è uscita lei. Queste uscite, ecco, io non le capisco tanto di Natasha Denona in questo momento. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se sono solo io ad avere questa impressione o ce l'avete anche voi. Comunque, il video di ranking di Natasha Denona arriverà presto. Devo prima recuperare un sacco di cose, tra cui la paletta in patto, i blush, le cipri, tanto, tanta roba. Spero che nel mentre non esca un'altra. Ecco, mettiamola così. Io quindi la finisco così. Grazie per la compagnia, me ne fate veramente, veramente tanta. Spero di vedervi nel prossimo video. Io vi saluto. Ciao!